Il cielo è grigio, c'è ogni tanto un lampeggio di sole in questo autunno che ancora non si decide a trionfare, però trionfano le tragedie, come quella a Lampedusa, come quella dei tanti migranti che sono scomparsi in mare. Si parla di 250 dispersi a fronte di 90 morti già recuperati. Una tragedia enorme, una tragedia della quale l'Europa deve cominciare a farsi carico, perché che noi italiani siamo sulla frontiera è una cosa, ma che tutta questa massa di emigranti che emigrano dalla fame, ma emigrano anche dalle guerre come quella in Siria, è un problema europeo. Vorrei che anche gli olandesi si rendessero conto di questo grande problema.